Ciao ragazze, oggi vi voglio parlare della Sugarbox prima di iniziare volevo ringraziare lo staff di Sugarbox per avermi dato la possibilità di recensire la box di ottobre devo dire che sono rimasta piacevolmente colpita da questa scatolina ricca di produttini interessanti perché è curata nei minimi dettagli ma proprio nel complesso cioè addirittura la scatola che contiene la box è intagliata con questi voglio coprire l'indirizzo con questi fiorellini molto molto carini vedete? questi fiorellini che poi è il simbolo della Sugarbox molto molto bellina è imballata perfettamente infatti è racchiusa con questi cosettini qui quindi voi dovete tirare e la box insomma si apre quindi ben imballata tra l'altro loro si servono di uno dei corrieri che apprezzo di più cioè Bartolini non è perché io me la faccio con i corrieri però avendo un negozio cioè mio padre ha un negozio di articoli sportivi quindi molte aziende si servono di Bartolini per la consegna e sono molto precisi la roba ti arriva perfetta senza alcun danno davvero garbati quindi è uno dei corrieri che apprezzo di più infatti la box mi è arrivata all'email l'altro ieri notte che la Sugarbox mi aveva spedito questo pacchetto e il giorno dopo il pomeriggio mi è arrivata tenete presente che la Sugarbox è di Milano e in un giorno praticamente mi è arrivato il tutto cioè stesso il pomeriggio mi è arrivata la box e questo insomma vi fa capire che è un corriere molto preciso e soprattutto molto veloce adesso vi faccio vedere la box che si presenta così purtroppo è un'aperta quindi non potete cioè non si possono vedere come l'avevano organizzata loro che era davvero molto carina ho conservato questo chiudi questo sigillo insomma della box perché c'è una frase di Seneca che è davvero molto carina e ve la voglio leggere mi è piaciuta tanto anche questa particolarità questa attenzione per i dettagli infatti la potete pure ordinare per un regalo ad un'amica a vostra madre a un fidanzato perché c'è anche la box da uomo io in ogni caso vi lascio nell'info box il loro sito perché così potete andare a dare un'occhiata e farvi un'idea e questo insomma è il sigillo vi leggo la frase una bella donna non è colei di cui si lodano le belle braccia o le gambe ma quello il cui aspetto complessivo è di tale bellezza da togliere la possibilità di ammirare le singole parti cioè stupenda sta frase ed è di Seneca come potete vedere e poi c'è tutti questi fiorellini carini e infatti questo motivo di fiori che c'è anche nella box che è di cartone lo ritrovate anche all'interno vedete c'è tutto questo motivo di fiorellini molto molto carino e poi i prodotti vengono praticamente confezionati in questo beauty case di tessuto della Sugarbox molto molto carino si apre con i laccetti e al suo interno ho trovato dei prodotti per capelli uno smaltino un lucidalabbra e un panno cosmetico allora vi faccio vedere iniziamo dal dal panno cosmetico un panno termocosmetico con microfibra per la pulizia del viso e del collo ma dietro lo scatolino ho letto che si può utilizzare anche per per struccare per struccare insomma il make up ed è questo questo qui ve lo faccio vedere perché sono rimasta stupita che al suo interno praticamente qui nei consigli d'uso insomma diceva di utilizzare anche le creme di questa marca qui non j spero di averla pronunciata bene e di utilizzare l'ongeidra o l'ongeplus per quanto riguarda le creme sia idratanti che per quanto riguarda la pulizia del viso io l'ho aperto perché insomma volevo vedere questo panno cosmetico e al suo interno ho trovato anche i campioncini delle creme quindi posso provarlo come è indicato sulla sulla scatola e ce ne sono un bel po' direi faccio vedere sono questi tre campioncini qui allora l'ongeid detergente delicato viso e corpo questo dovrebbe essere il detergente da utilizzare per la pulizia del viso o del collo o se volete per struccarvi oppure mi hanno dato anche la crema nutriente ed emoliente da utilizzare dopo la detersione del viso e del collo quindi c'è proprio tutto il kit completo di questo panno cosmetico e insomma mi è piaciuto perché è curato molto molto bene come cosa qui poi ci sono i vari trattamenti che la longee offre infatti ci sono sia questi questo panno dermocosmetico con microfibra oppure c'è vabbè queste sono le creme questi sono i panni c'è un il panno longee per il viso e il corpo guanto per il corpo e struccante per occhi e labbra cioè qua ti fa vedere proprio tutta tutta la linea che offre questa marca qui che è una marca italiana quindi è tutto made in italy ed è anche viene da bologna se non sbaglio si longema srl bologna italy e poi qui ci sono le creme che tutta la linea delle creme e loro mi hanno inviato la rossa e la verde questa questa qui la rossa è quella nutriente ed emolliente quindi davvero molto molto carino questo kit perché poi è un kit completo quindi posso utilizzarlo e il panno è questo qui microfibra per la detersione del 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 corpo quindi è un kit davvero davvero molto carino molto completo infatti sono rimasta stupita perché non mi aspettavo che mettevano anche le le creme i campioncini eccetera eccetera metto tutto all'interno perché poi voglio provarli e darvi insomma un parere su questo prodotto qui quindi veramente un kit completo vi faccio vedere l'onze fisio soft questo questo qui non so di preciso dove lo potete trovare però secondo me è un prodotto pure da da farmacia io poi cercherò di trovarli questi questo dove vi vorrei consigliare dove poter trovare questi prodotti poi mi hanno dato un buono per uno sconto insomma valido fino al 95 fino al 25 novembre per una crema personalizzata dal cottage paris questo questo qui solo per sugarbox perché ho notato che questo buono qui questo voucher era valido fino al 9 novembre mentre qui in esclusiva per sugarbox fie l'hanno fatto insomma l'hanno hanno allungato la validità del del buono quindi fino al 25 novembre potete creare una crema per il viso se non sbaglio personalizzata su questo su questo sito qui praticamente si 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 su www mycottage punto com poi ho trovato questo questi prodotti per capelli che mi hanno incuriosito tanto non vedo l'ora di provarli ed è questo airmed olio purissimo bagno eodermico lucentezza e si utilizza praticamente dopo aver fatto lo shampoo con i capelli umidi ci passate sopra questo questo olio che tra l'altro è senza siliconi e parabeni poi all'interno della box troverete anche un foglio dove sono indicati tutti gli inci quindi come vi ho detto è curata nei minimi dettagli e questo qui al suo interno tre oli l'olio d'argan l'olio di macadamia e l'olio di jojoba ed è una confezioncina da 50 ml comunque abbastanza ed è un prodotto che comunque va utilizzato poco in minime quantità perché sennò comunque i capelli si si fanno insomma oleosi ed è brutto ed è questo qui airmed tra l'altro un odore buonissimo cioè io la prima cosa che sono andata a sentire l'odore perché a me nei capelli piace comunque avere un buon odore è un odore davvero buono e per abbinarlo mi hanno mandato questi olio ristrutturante luce che va utilizzato ho letto dopo penso o dopo la piastra o prima della piastra insomma tipo i semi di lino secondo me comunque all'interno della box ci sta tutto il fogliettino che vi spiega come utilizzare i prodotti a cosa servono eccetera eccetera quindi veramente molto curata poi ho trovato il pezzo forte ve lo lascio per ultimo questo smaltino qui che metterò comunque in un giveaway perché non li uso i smalti come sapete io faccio il gel quindi se posso fare un regalino a voi perché no ed è un verde mela molto molto carino ed è della color club uno smalto professionale ed è il colore twiggy molto molto carino ed è questo questo qui è un verde mela non so se ecco la luce sembra un verde fluorescenti ma in realtà è un verde mela molto molto carino e questo insomma lo terrò da parte per voi per il prossimo giveaway perché comunque sono prodotti di brand importanti mi fa piacere insomma farveli provare ed è questo smaltino qui il pezzo forte è per me che io quando l'ho visto sono rimasta senza valore tra l'altro che voglio far vedere nella box c'è tutta questa pagliettina troppo troppo bellina il pezzo forte per me è questo lucidalabbra della mesada sexy e glossy che ho provato ieri sera ed è un qualcosa di favoloso è pieno di glitter cioè se riesco ve li devo far vedere perché vedete quanti glitter è stupendo non è appiccicoso dura tantissimo ora chiudo perché se no sembro vedete pieno pieno di glitter tra l'altro è un viola prugna quel viola che sta andando tantissimo quest'inverno sono rimasta sono rimasta davvero estasiata da questo gloss infatti appena l'ho visto l'ho provato e dura tantissimo non appiccica è davvero di qualità sono rimasta senza parole devo essere sincera non conoscevo questa marca qui però sono andata sul loro sito internet che è www.mesaudacosmetics.it è sempre un prodotto italiano ma è un grande marchio e fa dei prodotti davvero davvero buoni e ho trovato questo gloss qui molto molto bellino poi vi voglio far vedere cos'altro c'era nella box eccolo qui questo è il foglio dell'inci che ci stanno scritti tutti gli inci dei prodotti questo qui higher med oli purissimi poi ci sta crema viso e corpo della longella crema detergente per viso e corpo color club c'è anche ingredienti degli smalti mesauda lip gloss c'è davvero è curata nei minimi dettagli infatti sono rimasta stupita devo dire la verità non mi aspettavo una cosa del genere poi al suo interno ho trovato il fogliettino dell'air med quello lì dei capelli quei prodottini dei capelli che praticamente se vado sul sito dell'air med utilizzando questo codice che ho qui avrò uno sconto del 20% su tutti i prodotti fino al 30 novembre ed è questo qui infatti ho pensato questi buoni sconti di inserirli nel giveaway perché per farveli provare insomma anche a voi questi prodottini qui un buono sconto fa sempre comodo infatti la validità è fino al 30 novembre sia di questo qui che della crema personalizzata e ve li voglio inserire nel giveaway mi fa piacere insomma che anche voi potete provare questi prodotti qui poi qui c'è il fogliettino di tutti i prodotti che sono all'interno della della box e leggiamo un pochettino coccola d'oro per i tuoi capelli regalati un momento di benessere con la magia degli oli purissimi a Hermed un rituale di cura ideale per tutti i tipi di capelli a base dei tre preziosi oli olio d'argan macadamia e jojoba il bagno termico deterge delicatamente illuminando i capelli e l'olio restitutivo luce protegge dagli agenti aggressivi e dona lucentezza e setosità quindi come vi avevo detto io praticamente sono tipo dei semi di lino però ovviamente penso di qualità migliore da applicare come lisciante e districante prepiega per capelli grossi ricci e trattati quindi i miei capelli sono ingrifati è perfetto poi manicure d'inverno il segreto per avere delle mani impeccabili anche nei mesi invernali utilizzare lo smalto color club 30 anni di esperienza questo mese all'interno di sugar box formula senza formaldeide nutre le unghie senza rovinarle e permettono una durata di tenuta maggiore qualche consiglio per un'applicazione ottimale dopo aver messo una base idratante quindi un top coat diciamo trasparente iniziate dal centro dell'unghia vabbè qua vi da un consiglio su come stendere lo smalto e su vi scriverò nell'info box i siti dove potete visualizzare i prodotti perché stanno proprio c'è anche il sito internet poi l'SS detersione ogni giorno la nostra pelle si rinnova eliminando milioni di cellule morti in questo processo è di importanza fondamentale la detersione il panno e il guanto longe fisiosoft in tessuto di microfibra rimuovono impurità sporco eccesso di sebo e make up pulendo i pori in profondità ed eliminando le cellule morte dello strato superficiale dell'epidermine quindi più o meno è come il panno che vi ho fatto vi ho fatto la review quel panno però è per per il corpo non mi ricordo il il nome comunque è quel panno lì ve lo scriverò in qualche in qualche fumetto che mi spunta scusatemi e qua vabbè dice di abbinarlo al detergente ovviamente è la crema idratante che hanno fornito nel pacchettino poi lusso made in france cosa c'è di più esclusivo e lussuoso di una crema creata su misura sulla base delle esigenze della tua pelle sarebbe il buono che vi inserirò nel giveaway codage brand numero uno della realizzazione di creme personalizzate per la cura della pelle in collaborazione con sugarbox vi offre uno sconto esclusivo del 30% come utilizzarlo è semplice andate online e un esperto vi guiderà nella creazione di un prodotto ad hoc sulla base delle esigenze della vostra pelle affrettatevi vale fino al 25 novembre il giveaway finisce per per l'otto quindi ce la fate tranquillamente labbra al bacio questo è il gloss strafigo la texture cremosa e leggera infatti scorrevole e mai appiccicosa stravero del lip gloss mesauva rende le labbra luminose e ne enfatizza l'effetto tridimensionale grazie alla texture super brillante e avvolgente il risultato è un make up altamente seducente ultra brillante ma leggero e confortevole devo dire che questi prodotti della misauda sono stragnocchi proprio come direbbe Malou però non so dove trovarli quindi devo un po' andare a vedere sul loro sito e questo è il cartoncino che troverete nella sugar box e poi ho trovato una cosa troppo carina cioè essendo la box di ottobre mi hanno messo questo targhettino qui con questa zucca molto carina e all'interno c'è la ricetta per una maschera per il viso e una torta vedete troppo troppo bellina me la metto così se volete fare il fermo immagine così vi potete fare la torta e la maschera ecco qua ragazze questo è quanto poi c'è da dire che comunque i prodotti vengono consegnati in questa in questo box cioè in questa pochette qui che è molto carina vedete la potete portare in viaggio con voi mettendoci qualche robiettina dentro è molto molto carina cioè si può riutilizzare tranquillamente io sono rimasta piacevolmente colpita da questa da questa scatolina qui e ve la straconsiglio niente io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze